L'ultimo grado della giustizia sportiva prima che eventualmente possa essere chiamata in causa quella amministrativa. Ricorso al collegio di garanzia del CONI, almeno per il momento lo step finale per il Teramo, che spera in un difficile ribaltamento della decisione presa venerdì dal Consiglio federale. Il legale Cesare Di Cintio e la DCF Sport Legal depositeranno entro la giornata il ricorso e tra una settimana, il 18, dovrebbe esserci la pronuncia definitiva dell'organo di giustizia. Le chance sono poche, inutile girarci intorno, le motivazioni adotte dalla Federcalcio per esclusione del diavolo dai professionisti sono davvero complicate da ribaltare e le parole di gravina sulla responsabilità dei club sono a testimoniare quanto la strada sia in salita. La Covizoc infatti ha ritenuto, cosa convalidata anche dal Consiglio federale, che la causa di forza maggiore delle quote bloccate non può essere adotta come una giustificazione rispetto all'adempimento delle specifiche obbligazioni della società. E come esempio porta il fatto che con la stessa procedura giudiziale in essere il Teramo ha comunque concluso senza problemi la stagione 21-22. Perciò il tema non è un esimente. Poi c'è la contestata carenza finanziaria determinata sulla scorta dell'indicatore di liquidità al 31 marzo che al netto degli introiti di calcio mercato è comunque di ampie proporzioni. Ma quello che nemmeno il Teramo è stato in grado di contestare all'organo di vigilanza è l'impossibilità da parte della società di revisione di esprimere una conclusione sulla possibilità della società di proseguire la propria attività quale entità in funzionamento tanto nella relazione semestrale al 31 dicembre 2021 quanto nella situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo. Questo elemento di criticità e difformità risulta incontestato da parte della società. Insomma, questioni davvero molto pesanti che renderanno difficilissimo il ribaltamento di fronte davanti al CONI. Ecco perché parallelamente si lavora anche al piano che potrebbe vedere il club richiedere un posto nella quarta divisione nazionale attraverso la procedura che richiederà l'intervento del primo cittadino. Peraltro l'assemblea dei soci di oggi dovrebbe anche tenere conto della possibilità che vengano sbloccate dal tribunale le quote congelate. Non sarà anche in questo caso così semplice, visto che il foro Capitolino vuole capire perfettamente i margini di un'operazione che presenta comunque ancora dei lati molto nebulosi. Ecco perché finora non è mai arrivato l'ok. Arriverà oggi? Difficile dirlo. Nel frattempo, giocare sul tavolo della Serie C con troppa insistenza farebbe correre il rischio di dilatare i tempi e non avere troppo margine per salvare poi il salvabile. È evidente che il Teramo spera nella Lega Pro, ma finora i primi due round Covizoc e Consiglio federale sono andati malissimo. Segno evidente che servirà qualcosa in più per cambiare l'esito di una vicenda intricata.